Nato a Livorno il 22 aprile 1992, Simone Dell'Agnello è un attaccante centrale con uno spiccato senso del gol. Dell'Agnello è stato scoperto dagli scout interisti nel 2007 quando militava nel settore giovanile del Livorno. Ha giocato per due anni con gli allievi nazionali nerazzurri mettendo a segno nella stagione 2008-2009 ben 22 reti grazie alle quali ha trascinato la sua squadra sino alla finale scudetto di categoria, persa contro la Fiorentina. A seguire un altro biegno con l'Inter, questa volta in forza alla squadra primavera. Nel primo anno ha giocato 11 partite e segnato 3 gol, mentre nel secondo anno ha saputo fare ancora meglio nella misura di 25 presenze e 16 reti. Quindi il ritorno al Livorno da prima in comproprietà e poi a titolo definitivo a partire dall'estate del 2012. Nel club labronico, col quale ha festeggiato lo scorso giugno la promozione Serie A, ha disputato due campionati di Serie B per complessive 20 presenze, di cui 5 nella prima stagione e 15 nella seconda nella quale ha messo a segno il suo primo gol fra i professionisti, segnatamente il 10 novembre 2012 ad Ascoli. Simone Dell'Agnello è arrivato dal Livorno in prestito.